Una pena superiore all'omicidio colposo. Intanto l'omicidio colposo è colposo, significa che quello non voleva fare un reato. Invece uno che si siede davanti al ponte sullo stretto lo voleva fare. Ma devo poter parlare, io devo poter parlare, se no non mi invitate. Io stavo a casa comodissimo. No, io la invito molto volentieri. Stavo a casa comodissimo. Anche per dimostrare il pensiero che ci viene. Chi fa un omicidio colposo ha avuto un incidente purtroppo, ha avuto una negligenza. Chi invece blocca un'opera strategica per lo sviluppo del paese, fa un reato gravissimo nei confronti dell'umanità, perché blocca una cosa strategica. È giusto che sponga la propria teoria. Blocca una cosa strategica. Allora bisogna rispettare le leggi.